In questa domenica, dopo l'Epifania, la liturgia della Chiesa colloca, come ogni anno, la festa del Battesimo di Gesù. Anche il Vangelo che ascolteremo quest'anno dall'Evangelista Matteo proprio riguarda l'episodio del Battesimo, cioè quell'episodio in cui l'Evangelista racconta la visita di Gesù al fiume Giordano, da Giovanni il Battista, che era già stato introdotto nel Vangelo, e l'incontro fra i due e il Battesimo, appunto, ad opera di Giovanni del Signore Gesù. Il racconto è legato all'Epifania, questo è un primo tratto interessante che forse si può sottolineare. Tutti i padri della Chiesa hanno letto in continuità la manifestazione di Gesù, dei magi, dell'Epifania, con il Battesimo, in qualche modo semplificando un po', dicendo che anche il Battesimo in fondo è un'epifania, cioè una manifestazione di Gesù. Come Gesù bambino si è mostrato ai magi, così Gesù adulto inizia la propria missione mostrandosi al mondo nella scena del Battesimo. E in effetti è vero che tutti gli evangelisti iniziano l'attività adulta di Gesù raccontando questo episodio, e quindi che è un episodio che è considerato anche storico, degli studiosi, proprio perché è raccontato da tutti i Vangeli e ha quindi una buona base anche di storicità. Giovanni il Battista è presentato in tutti i Vangeli come un predicatore nel deserto, con i tratti del profeta, e con l'incarico, il compito di presentare la figura di Gesù. L'episodio che ascolteremo questa domenica riguarda proprio l'incontro fra Giovanni e Gesù. E nel Vangelo di Matteo è un incontro anche particolare, proprio perché quando Gesù arriva da Giovanni, l'Evangelista dice che Giovanni voleva impedire a Gesù di farsi battezzare, con una frase molto semplice, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Solo l'Evangelista Matteo sottolinea questo piccolo dialogo fra Gesù e Giovanni, proprio a voler mostrare in qualche modo la stranezza di questo episodio. Come mai Gesù, che è il Salvatore, che è senza peccato, deve sottoporsi al Battesimo, che invece era un Battesimo di conversione per i peccatori. Ecco, questo effettivamente è un dato da leggere teologicamente, appunto. Ogni Vangelo sottolinea proprio questo, che Gesù, il Salvatore, colui che salva dal peccato, nonostante abbia appunto questo compito, inizia la propria missione facendosi battezzare, cioè sottoponendosi a questa pratica che aveva uno scopo eminentemente di conversione, di liberazione del peccato. Probabilmente i Vangeli non dicono, non spiegano estesamente qual è il motivo. Anche la risposta che dà Gesù, che lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia, non è chiarissima nel suo sviluppo. Gesù parla di giustizia, quindi in qualche modo fa capire che è giusto così, che è giusto che accada così. Perché? Cosa sottolinea questo desiderio di Gesù di sottoporsi al Battesimo di Giovanni? Probabilmente, e anche qui abbiamo una bella continuità col messaggio del Natale, Gesù, che si è incarnato, che è venuto, che è il Dio fatto uomo, ha voluto condividere con l'uomo anche questa situazione di peccato. Si è unito al popolo dei peccatori che andavano da Giovanni a chiedere la conversione del cuore. E quindi ha voluto iniziare la propria missione così, unendosi al popolo dei peccatori, unendosi a coloro che chiedevano la conversione del cuore. Non aveva bisogno, Giovanni il Battista ha ragione, non ha bisogno di far, di subire il Battesimo, di sottoporsi al Battesimo, ma lo fa volontariamente, per appunto mostrare questa piena condivisione di Dio, del Divino, con l'umano. Appunto, ancora una volta, lo stesso messaggio in fondo del Natale. Nell'episodio del Battesimo, quello che accade di importante è raccontato alla fine, quando ogni Vangelo lo dice, anche il Vangelo di Matteo, naturalmente, finito il Battesimo, al termine del Battesimo, dice, l'Evangelista si aprirono i cieli e lo Spirito di Dio scese come una colomba su Gesù e si udì una voce dal cielo. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Questa è una tipica scena di, usando una parola un po' complessa, una teofania, cioè una manifestazione di Dio. Il fatto che si aprano i cieli, che si squarciano i cieli, significa che il mondo del Divino, che è sopra il cielo, si manifesta nel mondo degli uomini. La discesa dello Spirito Santo, che viene rappresentata dalla colomba per dire che è qualcosa che è stato percepito concretamente, come un oggetto, un animale che è sceso concretamente su Gesù, rappresenta ancora un intervento del Divino nel mondo degli uomini, e poi naturalmente la voce. Questa voce è certamente la voce di Dio e attesta una cosa fondamentale nella Cristologia dei Vangeli, cioè la figliolanza divina di Gesù. Questi è il figlio mio, l'amato. Ci sono anche dei liechi molto interessanti all'Antico Testamento, ad alcuni salmi, ma anche all'episodio della legatura di Isacco, quando il figlio amato viene sacrificato, viene portato verso il sacrificio da Abramo. A parte questo, appunto, è questo un po' il cuore dell'episodio. Nel battesimo Gesù si manifesta come figlio di Dio. Nel battesimo Gesù si rivela come figlio di Dio. Dicevo all'inizio, il legame con l'epifania. Anche questa è una manifestazione di Gesù. Il Gesù adulto si manifesta come il figlio. È Dio stesso che interviene. Per tutti i Vangeli, per tutti gli evangelisti, è questo il momento in cui può avere inizio l'attività pubblica di Gesù. Il Signore viene riconosciuto come figlio di Dio dalla voce stessa divina e da qui in avanti inizia la sua missione. Quindi è proprio questa manifestazione il cuore dell'episodio, il senso anche teologico dell'episodio, senso teologico molto profondo, anche perché qui abbiamo, in una delle rarissime scene del Nuovo Testamento, dove abbiamo insieme il padre, il figlio e lo spirito. Il figlio è lì, al fiume Giordano, il padre è nel cielo, si fa udire tramite la voce e lo spirito interviene come colomba. Quindi abbiamo veramente un cuore pulsante del Vangelo, un luogo importante di manifestazione e anche l'anno liturgico inizia un po' così, con questo inizio, ecco, è l'inizio dell'attività di Gesù, è la chiusura dell'anno del tempo di Natale e quindi anche l'inizio poi dell'anno liturgico, del tempo ordinario, lo iniziamo con Gesù, con l'inizio della sua missione. È quasi un invito poi a proseguire l'anno accompagnando il Signore Gesù nella sua missione e anche noi disponendoci a seguirlo per le strade della Galilea, come saranno poi i primi chiamati, come racconterà poi il Vangelo. Quindi, diciamo, alla fine di questo tempo di Natale ci apriamo alla quotidianità, ci apriamo al tempo ordinario e ci appostiamo a seguire il Signore come Suoi discepoli.